Oggi sono in rappresentanza non solo del Codacons, ma di tutte le associazioni del gruppo, Confconsumatori, Adosbef, Cittadinanza Attiva, Udicon e Codici. Questa è importante iniziativa perché abbiamo scoperto anche questa volta una grande, un'importante realtà che si sta facendo strada ma è ancora forse troppo poco conosciuta nel territorio e anche a livello nazionale ed è una realtà che fa un reale chilometro zero con una produzione certificata fatta in loco qui nel Foggiano ed un'attività di lavorazione e di produzione quindi di lavorazione del pomodoro molto importante che abbiamo potuto in qualche maniera verificare con i nostri occhi ed è sicuramente una realtà che come associazione non solo abbiamo avuto il piacere di conoscere ma che avremo il piacere di far conoscere ai consumatori perché noi, come dico sempre, siamo un trade union, siamo un legame, un punto di contatto tra la produzione, la produzione importante pugliese, il chilometro zero, le realtà, le eccellenze pugliesi e il consumatore finale che deve trarre vantaggio oltre che convenienza dall'acquisto di un prodotto pugliese. Vantaggio in termini proprio di salute perché quando il prodotto è di grande qualità non è solo un prodotto che dà un'utilità economica ma è anche un prodotto che dà un vantaggio sul piano della salute in prospettiva appunto di un benessere e quindi di una dieta importata al benessere.